Incidente in via Villagrazia a Palermo. Un operatore della RAP è stato travolto da un ato che si è dato alla fuga ed è rimasto gravemente ferito. È successo poco prima delle 9 di oggi. La notizia è stata riportata dal giornale di Sicilia. Il luogo dell'incidente è vicino alla guardia medica dove l'operatore stava effettuando le operazioni di raccolta dei rifiuti insieme ad alcuni colleghi. L'auto è arrivata all'improvviso e l'ha investito facendolo cadere sull'asfalto. L'impatto è stato violentissimo ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso. Ha accelerato ed è scappato via facendo perdere le prepe tracce. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale civico con codice rosso. È stato ricoverato in prognosi riservata sul luogo dell'incidente. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. In corso le indagini per risalire all'auto pirata al vaio ci sono le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la targa del veicolo. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere l'intervento dei soccorritori. Si sono registrati i rallentamenti al traffico.